per voi lo scooter meglio agile e divertente o stabile e sicuro lo solo solo alla sicurezza non si vorrebbe mai rinunciare ma a ben vedere anche la maneggevolezza soprattutto in città aiuta tanto ed il nuovo piaggio mp3 300 hpe con le sue tre ruote sembrerebbe poter conciliare queste esigenze ma sarà proprio così scopriamolo nel perché comprarla quanto conta lo stile la prima impressione positiva che si ha nell'approcciare con lo sguardo l mp3 300 hpe è data dalle dimensioni contenute che lo rendono immediatamente familiare ed invitante la linea risulta piuttosto personale soprattutto all'avantreno dove spicca la doppia ruota da 13 pollici con cerchi in lega neri a 5 razze sdoppiate mentre il frontale conferma gli stilemi più cari alla gamma mp3 con la cravatta a dividere i due gruppi ottici a goccia con luci di posizione a led il parabrezza fumè si integra perfettamente ai volumi anteriori e dona un certo dinamismo che aiuta a dissimulare la larghezza dell'avantreno la sella su due piani ben dimensionata promette tanto comfort ed appaga lo sguardo grazie a un confezionamento di livello ammortizzatori silenziatore carter trasmissione e filtro aria tutti immancabilmente neri sembrano mimetizzarsi piuttosto bene con il posteriore esaltando il profilo della fiancata ben leggibile piuttosto ricco di informazioni il cruscotto composto da due oblo analogici divisi da un display lcd lo strumento di sinistra indica velocità e livello carburante quello di destra giri motore e temperatura liquido raffreddamento il display offre informazioni relative al consumo medio di istantaneo velocità media volmetro temperatura esterna orologio due trip e percorrenza totale è spaziosa i due vani uno nel sottosella l'altro sopra il cruscotto riescono a soddisfare le esigenze di stivaggio tipiche dell'utilizzo urbano il portoggetti sopra gli strumenti è facilmente accessibile e permette di riporre documenti e smartphone è dotato di una comoda presa usb al sottosella si accede con un semplice movimento anti orario della chiave al blocchetto al suo interno è possibile stivare un casco jet ed un demiget o piuttosto un casco integrale la posizione di guida risulta da subito comoda e naturale il largo manubrio è rialzato e largo quanto basta per fungere da comoda leva la sella davvero molto ampia e ben imbottita permette a piloti di diversa statura di trovare il giusto posizionamento favorito anche dalle pedane piuttosto lunghe il piano di seduta posta a 780 mm da terra mi permette di poggiare agevolmente con entrambi i piedi sono alto un metro e 81 in città come va la sensazione rassicurante una volta in movimento è data dall'avantreno sempre piuttosto carico bene sul dritto direte voi ma in curva fortunatamente interviene l'alchimia del quadrilatero articolato all'anteriore che regala agilità senza compromessi rendendo la guida di questo tre ruote ideale anche per i meno esperti una caratteristica assolutamente benvenuta nel classico zigzag antitraffico dove l'mp3 300 hpe avrà ben poco da invidiare agli scooter tradizionali anche in virtù di un ingombro trasversale relativamente ridotto saremo noi piuttosto a dover prendere la misura alla sua volontà di invertire l'inclinazione con estrema facilità negli spazi angusti viene anche in aiuto il raggio di sterzo contenuto mentre nelle curve più ampie si apprezzerà la stabilità offerta dal doppio appoggio anteriore e dal buon funzionamento degli ammortizzatori posteriori capaci di offrire comfort e trazione la frenata soddisfa per morbidezza e modulabilità con la coppia di dischi anteriori da 258 mm capace di offrire potenza adeguata anche per la gestione di stop improvvisi disponibile la frenata integrale attraverso comando a pedale sulla pedana destra ottimo il comportamento della ciclistica nelle decelerazioni più intense capace di contenere il beccheggio e garantire sempre un elevato controllo del mezzo molto utile il blocco delle sospensioni anteriori attivabile sotto i 10 chilometri orari attraverso il comando al blocchetto destro permette di gestire le classiche soste al semaforo senza mettere i piedi a terra si disattiva automaticamente quando si ruota l'acceleratore per ripartire o agendo nuovamente sul comando pratico anche il freno di stazionamento che in con vinco il blocco sospensioni permette di parcheggiare lo scooter senza l'uso di cavalletto centrale la ciliegina sulla torta arriva nella gestione delle situazioni più difficili buche tombini pavè asfalto umido vengono digeriti con una naturalezza ben superiore rispetto a un mezzo tradizionale a due ruote innalzando anche il piacere di guida e permettendo all'occorrenza inserimenti in curva in stile moto gp beh o quasi e il motore il rinnovato monocilindrico di 278 cc risulta assai piacevole a qualsiasi andatura in piena sintonia con la trasmissione cvt offrendo prestazioni adeguate tanto al commuting urbano quanto al turismo fuori porta si tratta di un monoalbero quattro valvole raffreddato a liquido nuove la distribuzione con punteria a rullo la testata ora con condotti dal diametro maggiorato e quindi il pistone l'albero motore e l'iniettore multigetto queste modifiche hanno permesso di innalzare i valori di potenza e coppia rispettivamente del 26 e 13 per cento raggiungendo i 26,2 cavalli a 7.750 giri e di 26 newton per metro a 6.500 giri le partenze da fermo sono pronte dolci fluide con il mono che si stabilizza intorno ai 6.000 giri è pronto ad assestarsi mille giri più in basso non appena si mantenga la velocità costante promettendo di percorrere oltre 40 chilometri litro ai canonici 50 orari la maggiore muscolatura risulta utilissima in emergenziale o tra le curve dove è capace di riprese convincenti risultando tra l'altro poco rumoroso e scevro da vibrazioni nella nostra prova abbiamo percorso 27 chilometri con un litro di verde è sicura se le due ruote all'anteriore aiutano a gestire con serenità le incertezze dell'asfalto l'abs a tre canali continental poco invasivo e il controllo di trazione piuttosto progressivo nell'intervento è disattivabile innalzano ulteriormente la sicurezza attiva garantita anche dal peso a secco contenuto in 202 chili e dal buon funzionamento delle sospensioni quanto costa per mettere nel box questo mp3 300 hp e occorre staccare un assegno di 6.699 euro un prezzo non economico in senso assoluto ma che troviamo commisurato all'esclusività della ciclistica alla qualità costruttiva e dalle prestazioni il kit del top case posteriore da 37 litri è disponibile a 284 euro due le colorazioni argento cometa in prova e nero cosmo la versione sport con ammortizzatori rossi pedani in alluminio freni anteriore a margherita e cuciture sella a contrasto è disponibile con un sovrapprezzo di 200 euro difetti la protezione aerodinamica del parabrezza lascia il casco scoperto consigliabile quindi l'acquisto del plexi maggiorato per chi volesse usare spesso fuori città questo mp3 e poi avremo preferito contare su un vano sottosella più voluminoso capace di contenere almeno due caschi jet la consiglieresti un mezzo solido nella guida ma anche facile che tra l'altro può essere guidato compatente b si candida ad essere la soluzione vincente per tutti gli automobilisti stanchi di passare ore nel traffico e desiderosi di scoprire tutta la libertà e la praticità tipiche di uno scooter ma lo consiglierei anche ai due ruotisti desiderosi di incrementare il controllo soprattutto nelle situazioni difficili e Grazie a tutti.